Il prossimo svitato è un gilet arancione, sostiene che Conte voglia esterare una dittatura e che il Covid sia tutta una presa per il culo. Ma tu pensa! Avevamo i gilet, ecco, arancioni. E li abbiamo scoperti. Conte è Bill Gates. Al telefono, ecco. Continui pure. Io non la scarico, l'app Immuni. Insomma, se lo faccio, mi controlleranno ovunque. Ma in che modo lo farebbero? Ma è ovvio! Con quelle cazzo di antenne 5G, mi inietteranno mercurio nelle vene. Mi scusi, vediamo se ho capito bene, ok? Non lo faccio, il vaccino. Dai! Il Covid non esiste! Non esiste. Quindi anche le mascherine sono inutili, no? Sono un business! Sapete che vogliono venderci alla Cina? Bill Gates è un illuminato che vuole venderci vaccini! Ci controlleranno con le antenne 5G installate in quarantena! Saremo dei robot! Conte, Bill Gates, gli Illuminati, Soros! Vuoi controllarmi? Col cazzo stronzo, non mi controlli! Può... può smetterla. Grazie. Il 5G... Mi si alza la temperatura, così? Certo che ne sparate di cazzate, eh? Bill Gates. E voi votate come me? Segnate una X con la matita, come me? Respirate il mio ossigeno? Ti fanno eccitare i complotti, vero? Non resisti, non puoi farne a meno, devi scriverlo su Facebook, no? Vuoi sapere che è davvero un pericolo? Tu! Si fermi! La prego! Il Mercurio! Mi si alza! Mi... mi si alza la temperatura! Te lo infilo nel culo un termometro brutto coglione! No! E dai, lo dirò a Bappalardo! Stamperemo! La lira italica! Io prendo le multe, ma che cazzo?